L'FC Matese vince 3 a 0 con grande merito contro un Tolentino molto opaco. Urbano può essere soddisfatto della sua batteria di attaccanti tutti in rete. Delusione per Mosconi che parla di squadra giovane. Ma adesso va detto che anche la stessa classifica del Tolentino inizia ad essere pericolante. Dirige il signor Rizzello di Casarano in una giornata estremamente piovosa nella provincia di Caserta. Al settimo proteste dei ragazzi di casa sugli sviluppi di un'azione c'è una rovesciata in area di Galesio respinta da Tortelli del Tolentino. I Verdi di casa reclamano a gran voce un tocco di braccio che il signor Rizzello tuttavia non ravvisa. Al tredicesimo la replica dei Cremisi con un'azione di rimessa condotta da Capezzani che preferisce andare a concludere ignorando alcuni suoi compagni liberi. La palla finisce alta. Al quarto d'ora Abreu tenta il gol di rapina davvero abile anche la parata di Governali in equilibrio precario. L'attaccante di casa ha concluso praticamente quasi da centrocampo. Devono passare ancora 30 secondi per il contropiede locale portato sempre da Abreu che riesce a concludere. Rimane il dubbio su quale parte del corpo del portiere venga toccata dal pallone. Non vengono viste irregolarità. Si scontrano poi Abreu e Governali l'azione così sfuma. Al trentunesimo lo spunto in area di Galesio che si ritaglia lo spazio ma è bravo a evitare problemi Tortelli. Dall'angolo di Langellotti stacco perentorio di Cassese ed è straordinaria la parata del portiere classe 2002 Governali. Fase che gioca a favore dei locali che appaiono squadra compatta e ordinata. Avanti al trentasettesimo bravo Masi dalla destra a mettere al centro dove il colpo di testa con i giri giusti di Galesio vale l'1-0 per i campani. FC Matese in vantaggio al cospetto di un Tolentino che ha ridotto i ritmi con il passare dei minuti. Con le immagini di Francesco Di Rienzo siamo nella ripresa quando aumenta l'oscurità sul ferrante di Piedimonte Matese. Dopo un minuto dalla ripresa a traversone di Padovani con pallone mancato da Kuzmanovic deve rimediare un difensore di casa in calcio d'angolo. Mentre Mosconi del Tolentino ragiona ad un cambio il Matese mette in discesa la partita con un tiro da fuori area di Abreu che batte a terra una volta. Prima di trafiggere Governali Casertani avanti 2-0 mentre il Tolentino decide di far entrare Rucci al posto di Tortelli. Al decimo in una delle rare sortite marchigiane è lo stesso Rucci a concedersi una rovesciata spettacolare che Kuzmanovic è bravo ad alzare sopra la traversa. Al cospetto di un Tolentino molto sterile ne approfitta Sorgnona la squadra di Corrado Urbano che al sedicesimo porta a tre le marcature. E' lo stesso classe 2001 Jonathan Adusa che una volta in area di rigore finta la conclusione prima di scagliare un tiro vincente. Il Tris adesso è servito e la gara sembra essere davvero terminata. Il Tolentino ha un sussulto ventunesimo cross di Severini con correzione vincente di Capezzano che segna ma il gol viene annullato per fuori gioco dello stesso Capezzani. Su piedi Montematese viene giù un diluvio incredibile che condiziona notevolmente i 22 in campo. Urbano rivoluziona l'attacco con gli ingressi di Riccio, Vodopipec e Ricci al posto di Galessio, Langellotti ed Abreu. Nel finale sono i casertani che potrebbero arrotondare ancora il punteggio. Prima al 34esimo con una conclusione forte ed angolata di Barone respinta con gran parata da parte di Governali. Mentre al 40esimo è Cassese a sfiorare il gol di testa dopo cross dal limite di Albanese. Nella piscina del Ferrante di Piedimonte Matese i ragazzi di casa sorridono per il secondo successo interno consecutivo. Riflessione in casa del Tolentino che dovrà correggere qualcosa in vista dell'arrivo nelle marche del Campobasso.